Dune e Sonic hanno molto più in comune di quanto credi, e questa cosa dovrebbe preoccuparci. Ricordiamo tutti il primo trailer in CGI di Sonic, con quel personaggio in CGI orrendo che è stato preso per il culo da chiunque. Così criticato che la Paramount ha detto, ok, rimandiamo il film e rifacciamo tutta la computer grafica. Passando da un estremo all'altro, per quanto riguarda Dune, forse non te lo ricorderai, ma quando uscì il primissimo logo per il primo film, questo qui, praticamente ci fu un'ondata generale di meme e gente che lo prendeva per il culo per il fatto che sembrasse Dunk e non Dune. E a quanto pare la gente ha rotto così tanto il cazzo che la Warner si è vista costretta a cambiare questo logo, aggiungendo una piccola stella in lontananza all'interno dalla E, per far capire appunto che si tratta di una E. Questi due esempi, molto diversi tra di loro, ci mostrano quanto il pubblico che caga il cazzo possa modificare l'esito finale di un film, a partire dal logo fino addirittura a un intero personaggio. E ci rendiamo conto che questo non è normale, no? Chi decide quando il pubblico ha ragione? O secondo te dovrebbe stare solo zitto? Fammelo sapere nei commenti.